Genova per me rappresenta oggi attraverso questa mia visita che è un ritorno e la necessità di non cancellare il ricordo delle vittime ma anche il dolore dei familiari. Dicevo che Genova significa anche in questo mio ritorno un ringraziamento di cuore a tutti i vigili del fuoco che insieme agli altri rappresentanti delle forze dell'ordine militari civili ma anche i volontari sono stati i protagonisti dell'emergenza ma sono oggi i protagonisti di questa nuova fase di ritorno di Genova alla normalità ma sono qui anche per dire come rappresentante delle istituzioni e come rappresentante del senato che il senato c'è e c'è un'attenzione particolare alle risposte che il Genova darà a questa gente. Io penso che al di là di quelle che possono essere i tempi della mediazione politica oggi la parola d'ordine per Genova è tempestività cioè non c'è nessun'altra richiesta da parte dei nostri cittadini che un ritorno alla normalità perché qui la vita è cambiata anche i lavori mi dicono sono cambiati ci sono persone che fanno fatica a raggiungere questa città e che stanno pensando addirittura di cambiare lavoro che segnala davvero un problema difficile. Questa città deve ritornare ad essere al centro di quello che era prima non può essere isolata dall'Europa dall'Italia non può non può restare così emarginata dal mondo.